In questi giorni nei quali abbiamo contemplato la passione del Signore, abbiamo visto il cammino dell'amore di Gesù Cristo, il quale, da quell'amore che da bambino o ragazzo poteva esercitare in maniera gioiosa, bella e semplice, nei confronti della Santa Dele Sante, Maria, del giusto, unico degno di stare al suo fianco e di essere padre affettivo di Gesù, Giuseppe, quell'amore è andato allargandosi ad altre cerchie di persone, sempre più difficili da amare. I discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, che erano persone buone di cuore, però con tanti loro difetti, Pietro, che si mostra sempre il primo, il più bravo, il più forte, il più fedele, il più convinto, l'unico discepoli capace di camminare sul macco del mare in tempesta, Giancome Giovanni, che Gesù addirittura ha chiamato figli del tuono, per quanto erano di carattere nervoso, scattavano subito, e così tutti gli altri, compreso Giuda, che è quella veramente la spina nel fianco di Gesù Cristo, perché, anche se è stato tre anni con lui, non si convertiva mai. Gli altri facevano dei passi avanti, campianino, correggendosi, cambiando, volerano diventare dignitari della corte del nuovo regno, e poi cominciano a cambiare le prospettive, perché questo che forse non era come pensavano loro, Giuda invece, invece di convertirsi, pervertiva giorno per giorno, fino a maturare la decisione dell'interdittura di Gesù Cristo e di farlo uccidere. Allora amare i discepoli non era certo come amare la Madonna Fanduseppe, la persona più difficile da amare, però Gesù Cristo era amato lo stesso. Poi amare i farisei, che erano falsi, ipocriti, i seducei che negavano la resurrezione dei morti, che avevano un ufficio di sommi sacerdoti e membri del Sinetio, l'autorità religiosa più elevata di Israele, ma non avevano dentro l'amore per Dio e per il prossimo, volevano quel posto per vanagloria, per successo personale, per soldi, ma il loro credo interiore era ben altro che il credo, già il credo del popolino superava il credo di queste persone, perché almeno il popolino ci credeva in Dio, loro credevano al Dio quattrino, amavano i soldi, amavano il potere, amavano gli applausi, amavano essere visti dalle persone, amavano la gloria degli uomini, erano molto lontani da Dio, tanto che il riso Cristo diceva chiaramente come stavano le cose, guardate che i peccatori, quelli che voi giudicate peggio di tutti, i pubblicani, i sattori delle tasse per conto dell'impero umano, quelli lì insieme a prostitute vi precederanno nel regno dei cieli, voi volete dopo, voi credete di essere i migliori, siete i peggiori, toglietevi questo inganno perché proprio non è vero, amare quelle persone costava Gesù Cristo, guai a voi scrive farisei e i povriti, guai a voi, eppure li amava in maniera più rude, più forte, per scuotere il loro peccato per la conversione, amare, quando fu arrestato, amare quelli che lo condannavano in processi falsa, sia il processo religioso, sia il processo civile, fatto davanti a Ponzio Pilato, amare il famoso feodote che in nome del Dio Altissimo, il papà di Gesù Cristo, lo condannava a morte perché bestegnatori, in quanto aveva osato chiamarsi figlio di Dio, invece Gesù Cristo lo era realmente, come si doveva amare una persona così delinquente, falso rappresentante religioso del popolo di Israele, quello ci credeva a meno di tutti in Dio, se avesse avuto una briciola di fede, avrebbe cercato di esaminare la dottrina di Gesù Cristo, se era fatta secondo la Bibbia o no, gli miracoli fatti di Gesù Cristo, se erano veri, opere di Dio o no, niente, Gesù Cristo dava solo fastidio perché era e predicava tutta una serie di cose contrario all'equilibrio dei valori che si erano costruiti. Ebbene, Gesù Cristo, come si fa ad amare una persona così? Come si fa ad amare quelli che ti frustano e ti macellano la schiena per sempre? Come si fa ad amare quelli che ti hanno messo la colonna di spine e poi ti giudicano divertendosi come se tu fossi un pazzo, dandoci le bastonate da sopra per fare conficcare le spine dentro? Come si fa ad amare quelli che quando stai preso della croce stai morendo in mezzo a un'area di soffrenti di sangue? Se la godono, godono di vederti crepare e godono di vedere che la loro teoria si afferma contro la tua. Tu perdichi l'amore e invece vince il male. Questa è la verità. Vince il diavolo, non vince Dio. Se Dio esistesse ti verrebbe a far scendere dalla croce, invece non ci sta. Tu non sei figlio di nessuno. Tu sei figlio del peccato come noi se mori sulla croce comuniante all'essere umano. Vince la morte, questa è la legge di questo mondo. E Dio Cristo invece dedicava tutto il contrario, l'amore. Come si fanno ad amare queste persone qui? Dio Cristo l'ha fatto. E morendo per amore ha rivelato chi era in realtà. Ha dato il segno che l'umanità attendeva per capire chi era lui. Non bisognava muovere le stelle, accendere o spegnere la luna o fare qualche cataclisma per convincere che lui dominava gli astri e quindi era Dio. il segno di cui il mondo aveva bisogno per riprire gli occhi e far capire che lui era Dio e era l'amore. nessuno, nessun essere umano sulla croce avrebbe potuto amare come Dio Cristo ha amato. Ha vinto Gesù, ha amato. Il diavolo ha cercato di estremizzare la situazione per dirgli che tu non amerai perché tutti crollano a un punto. Tu non amerai quando ti costerà pagare col sangue l'amore per il padre tuo e per i fratelli. Ti ribellerai come si ribellano tutti. E Dio Cristo ha trasformato l'arma che il diavolo ha usato contro di lui per usarla contro il diavolo. Ha versato il suo sangue per amore e quel sangue è diventato il segno del massimo amore possibile sulla terra. il terrore dei demoni, l'arma con cui l'ha sconfitto il Satana con cui oggi sconfiggiamo il rimarigno quando amiamo anche se soffriamo a causa dell'amore dato al prossimo. Allora, ecco, solo lui poteva sulla croce amare dire che veramente questo uomo era figlio di Dio. Quindi la croce, la passione, hanno estremizzato l'amore di Dio Cristo portandolo alla massima dimensione. E allora, se quando uno ama e crea sperimenta una soddisfazione, una gioia, un qualcosa di nuovo e bello dentro te stesso. Se qualcuno quando fa del bene ama gratuitamente dando un pranzo a persone che non ti possono ricambiare e dentro di te sperimenti una gioia più forte di quello che crea facendo un lavoro una cosa che è importante per la vita delle persone. Quando uno ama dando la vita che sulla terra è l'espressione massima dell'amore non esiste l'amore più grande di quello che dà la vita per le persone che ama. che cosa ne consegue a livello interiore che cosa sprigiona quest'amore la desoluzione dei morti. L'amore dato nella maniera sacrificale nella sua massima dimensione produce la desoluzione dei morti. questo è il metà di tutto il cristianesimo questa è la buona notizia chi amando si vive quando si muore per amore si resuscita solo questo permetteva ai martiri cristiani e al Colosseo di andare a morire lodando Dio e a celebrare l'Eucaristia anche se sapevano che qualsiasi sede che celebravano potrebbero arrivare i soldati romani arrestare tutti torturarli e portarli poi a celebrare l'alberio al Colosseo beh se si arrestano i portano l'alberio al Colosseo andremo in cielo con il Signore morendo per amore risusciteremo questo facevano allora male è possibile questa via può essere percorsa fino in fondo non viene sconfitto chi ama rispetto a chi odia la morte non è più l'ultima parola nella vita delle persone di questo mondo è stata superata dall'esorrezione dei morti Gesù Cristo vive immortale non lo può uccidere più nessuno nessuno può più uccidere uno che crede in lui perché Cristo ci resuscita vedete che questo cambia totalmente la prospettiva di vita di un essere umano in questo mondo domani celebraremo domenica no no l'uvento celebraremo un funerale è morto un Signore di 92 anni al Cile che dicono i familiari dice a gennaio è morta la moglie adesso è morto lui e due morti vicine roba la persona non c'è più non c'è più dico le persone non c'è più si soffre si può ricordare ma non c'è più ho perso questo ho perso quell'altro è la vita è la vita una stagione vive bene poi si invecchia vengono le malattie la vita finisce che vita è questa e poi perché è morto a 92 anni se fosse morto a 60 o a 35 è troppo presto è impossibile così dicendo è ancora tanto da vivere da fare tante cose discorsi senza senso fatti da persone che credono soltanto questa breve vita e niente di più saremmo persone infelici se la nostra vita dovesse essere fermata dal limite dell'età delle malattie della morte noi abbiamo una cosa migliore e più grande Gesù Cristo è risorto dei morti e noi pure quando ci convertiamo quando passiamo dei nostri peccati ad amare qui risuscitiamo dentro noi stessi un giorno anche il nostro corpo perché se Dio è capace di riusciutarci qua dentro figuriamoci se non è capace di riusciutare il corpo che è più facile questo avviene e guardate come è fatto il nostro cristianesimo ma quanto è vero questo le donne la domenica mattina che cosa andranno a fare al seppocro a trovare un Cristo morto oggi il cristianesimo medio di tutti è trovare trovare Cristo morto per noi Cristo c'è ma è morto è incapace di fare qualsiasi cosa vince sempre il male Cristo è morto crediamo ma Cristo è morto non è morto perché cercate dei morti colui che è vivo perché avete questa mentalità questo cuore bacato senza fede di adorare un Cristo morto qui c'è bisogno di un cambio radicale della nostra fede bisogna cominciare a credere che Cristo è risorto e operare di conseguenza se Cristo è risorto facciamo cose ben diverse da quelle che fanno le persone che credono che Cristo è morto e vedere all'opera Cristo risorto della nostra vita quella è vera vita quella è una cosa meravigliosa cosa disse l'angelo alle donne cosa disse poi Gesù Cristo è risorto ai suoi discepoli andate in Galilea la lo vedete risorto andate in Galilea la mi vedrete risorto perché la Galilea la Galilea la regione al nord dello Stato di Israele al centro della Samaria al sud della Giudea è la regione dove stava Nazareth dove Gesù Cristo è vissuto per la sua parte e la sua vita terrena ma dove Gesù Cristo anche ha operato nei suoi tre anni di vita pubblica la maggior parte della sua predicazione la maggior parte dei suoi miracoli i più grandi i più belli e il numero maggiore rispetto alle altre parti dello Stato di Israele andando in Galilea nel linguaggio della Chiesa iniziale significava la predicazione dov'è che si vede Cristo risorto quando lo si annuncia quando si pratica il Vangelo quello che consegue all'opera della predicazione cioè la conversione dei peccatori cioè tutti i segni che l'accompagnano guarigione dei malati liberazione degli ossessi segni sulla natura queste sono le cose che manifestano Cristo risorto nel mondo di oggi c'è qualcuno che ha coraggio di impregare il Vangelo c'è qualcuno che ha coraggio di andare in Galilea se ci andiamo la lo vedremo risorto se restiamo chiusi noi stessi non vedremo risorto mai ecco allora i passi da fare per noi quali sono? passare da una fede in Cristo morto a una fede in Cristo risorto cominciare a credere veramente diventare credenti non più con una fede bambina ma con una fede adulta diventare credenti non più con una fede personale ma con una fede comunitaria i cristianesi sono potenti di vita quanto è meraviglioso San Paolo quando dice che quella stessa potenza infinitamente grande molto più grande di quella che il Padre ha usato per creare tutto intero l'universo per quanto esse è grande con la stessa potenza che è riuscitata di Gesù Cristo dai morti che è sceso nel più profondo degli inferi che ha preso la sua anima la liberata la rimessa dentro il corpo che ha ridato vita a quel cadavere e gli ha dato la capacità di vivere eternamente risuscitando e facendolo salire la testa del Padre con la stessa potenza ora abita qui dentro dentro di noi e opera in noi per farci fare le stesse cose che ha fatto Cristo questo è cristianesimo grazie a tutti